Arriva la sentenza per gli altri imputati per lo spaccio di droga al ristorante di Villa Zito di Palermo, dopo che lo chef Mario Di Ferro era uscito dal processo patteggiando una condanna a 4 anni. Il giudice per le indagini preliminari, Marco Gaeta, ha inflitto 7 anni a Salvatore e Gioacchino Salamone, che dovranno rispettivamente pagare delle multe di 54 e 60 mila euro. Per loro è scattata l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e lo stato di interdizione legale per la durata della pena. Infatti sarebbero stati due fratelli, oggi in carcere, a fornire la cocaina di ferro. 29 le cessioni di droga immortalate nelle foto degli investigatori della squadra mobile appostati davanti al ristorante in Via Libertà. Condannati anche tre ex dipendenti che, comunque, rispondevano di pochi episodi di spaccio in concorso con lo chef. Un anno e quattro mesi per Pietro Accetta e Gaetano Di Vara. Un anno, invece, a Giuseppe Megna. Le pene sono state ridotte di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Durante le indagini che fecero molto scalpore in città, registrando anche le conversazioni tra i dipendenti del ristorante, era emerso che in realtà tutti sarebbero stati al corrente del presunto giro di spaccio. Mario Di Ferro aveva però negato di lucrare con la droga, dichiarando di non essere uno spacciatore ma di avere semplicemente aiutato degli amici, perché a Palermo il 70% della popolazione fa uso di cocaina. Grazie. Grazie.